C'è una voce, trapposso i campiari. E il tuo sforzo? Ok, va bene, Gianni, la marcia è sospesa, accampiamoci prima di collare. Andiamoci lungo la sponda, chiaro? Ok, Gianni. Sei pronto a tuffarti? Tirello, sei pronto? Penso di sì. Andiamo. Per me? Un po' freddina. Un po' freddina, cazzo. Ah, un po' freddina. Sì, sì, sì. Prodizione Ah! 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 sono quasi le 5 mettiamoci in comunicazione con gli altri due ok ci penso io Jack base 1 chiama base 2, rispondete base 2 ripeto base 1 chiama base 2, base 2 rispondi non rispondono accidenti, non risponde un'anima prova ancora base 1 chiama base 2, per la miseria volete rispondere passo niente da fare non mi farà successo qualcosa no, non è chiuso la radio per non consumare le batterie questi sono ovviamente i punti di vista Jack ricordi cosa disse Mark in merito a questo maledetto viaggio? parlò di mitologia, di circe, della sua isla, Ea ed è questa l'isola da Puro scostrando la spedizione della Puccesa non è più tornata in porto lo ha detto Jack te lo ricordi questo? no Johnny, tu credi veramente a queste fantasie? beh, tutte le medizioni che si raccontano sono solo invenzioni vorrei che tu te ne rendessi conto siamo nel ventesimo secolo, non possiamo obbligarci a chiedere a queste stronzate è come credere vampiro alle streghe pensala come ti pare, io vado a vedere che diavolo accade vabbè, mattini questa, io resto qui e avvertimi che succede qualche cosa, ok? spero farlo di nuovo non più, Jack mi sta l'uno, 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 Jack mi sta l'uno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gianni, Gianni, che cosa succede? Rispondi, Gianni. Rispondi. Che c***o succede, Gianni? Che c***o. Che c***o. Che c***o. Che c***o. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.